Ci troviamo a Cossato, parliamo della situazione di SEAB, sappiamo che il prossimo 9 marzo c'è un incontro importante con i creditori chirografari, però insomma ci sono state, anche se è stata rinnovata la fiducia, ci sono state delle astensioni, tra queste il Comune di Cossato. Per quale motivo? Logicamente, avendo posto dei problemi sul tavolo, dare una fiducia senza che questi hanno ancora avuto una soluzione totale, insomma ci sembrava un po' eccessivo e anche poco coerente. Allora, voi avete nominato dei legali proprio per valutare la correttezza delle misure adottate, come è andata? Il parere del nostro regale ha fatto emergere alcune criticità che noi abbiamo portato all'attenzione di tutti i sindaci e quindi del controllo analogo. Alcune criticità sono state recepite, su altre si è aperta una discussione, noi riteniamo che questo contratto debba essere interrotto, si debba recedere, anche a tutela della società stessa e di tutti i soci. Su questo SEAB, anche perché in base al parere del nostro regale, questo recesso può avvenire senza costi da parte di SEAB. Su questa partita, SEAB si è riservata di fare delle valutazioni e presto ci sarà un altro controllo analogo in cui appunto discuteremo di questa richiesta che il Comune di Cossato ha fatto. Allora, invece per quanto riguarda le bollette che sono già state recapitate ai cittadini per riscuotere gli insoluti, a che punto siamo? Sono bloccate oppure no? Ma quello che noi contestavamo, l'abbiamo detto più volte, non era tanto il fatto che si cercasse di ottenere il pagamento di quello che ribadiamo è assolutamente dovuto e io invito sempre i cittadini ad andare a controllare se hanno delle bollette SEAB, non pagate, di pagarle spontaneamente. Quello che noi contestavamo era il fatto che questa richiesta veniva fatta innanzitutto con delle spese legali piuttosto importanti e non era anticipata da una raccomandata che desse la possibilità al cittadino di mettersi in regola spontaneamente senza nessun tipo di costo aggiuntivo. SEAB ha preso atto un po' di questa situazione e visto che tanti cittadini di fronte alla richiesta di spese legali e di pagamento della bolletta si erano limitati a pagare esclusivamente la bolletta, ci ha annunciato che per coloro che hanno appunto pagato la bolletta non procederanno alla discussione di queste spese legali. e questo mi sembra comunque una iniziale vittoria.